L'appartenenza, i ricordi, la passione che si tramanda di generazione in generazione, al di là dei risultati sportivi, la storia della Salernitana che si intreccia con quella della città e quella della città che cammina di pari passo con la storia sportiva, tutto condensato in scatti istantanei e foto capaci di racchiudere l'amore dei salernitani, dei tifosi per la propria squadra del cuore. La Salernitana che in quest'estate, nonostante le difficoltà, ha richiamato a rivisondoli gli affezionati, chi è sempre presente sugli spalti, grandi e piccini, alcune di queste sono state premiate perché capaci di racchiudere quel potere di stare insieme, di stare con la Salernitana e quindi di essere comunità attorno alla squadra. Ai vincitori del contesto estivo lanciato dall'associazione Fans 1919 sono andate le maglie disegnate da Luca Raimondo, ma la premiazione dei giorni scorsi è stata l'occasione per rivivere momenti ed emozioni legati alla Salernitana in un incontro moderato dal direttore di Telecolore Franco Esposito e a cui hanno partecipato il giornalista Michele Spiezze ed ancora poi l'ex Granata Marco Pecoraro Scaneo. Una distinta della stagione 88-89, il ricordo di imprese storiche come quella del 90, ma anche di momenti meno belli come il giugno del 91 invece, provando a recuperare un percorso che ha fin qui nutrito Salerno e Salernitani. Le foto ritraggono il potere di stare insieme una, le altre due invece ritraggono il cuore della nostra iniziativa, cioè vale a dire proprio quella forza che la metafora aggregante ritrova nel tifo per la Salernitana e soprattutto che si tramanda di padre in figlio. La foto rappresenta un frammento di una memoria che noi vogliamo far rivivere con la presenza di Marco Pecoraro Scaneo, con il libro di Michele Spiezze, quella memoria che un'associazione come FANS 1919 vuole assecondare in un processo educativo, ma senza pretese di essere il comando di questo processo educativo, ma persuadendo tutti gli altri che è importante educare alla memoria perché educare alla memoria significa conoscere il passato e guardare il futuro, che è tanto quello della nostra Salernitana. Capire che poi questo è un colore, è una passione che ti rimane appiccicata addosso e anche in momenti difficili come quelli che abbiamo vissuto durante la precedente stagione, in coda, iniziando la nuova, non sono momenti che vengono o fraintesi o attecchiti da quella che invece rappresenta la passione, il bene indisponibile, che è appunto la tradizione sportiva che i tifosi vogliono raccontare.